L'idea dominante della Sagra Scrittura è quella di presentare l'amore di Dio verso le creature che spesso rispondono con l'incratitudine e l'infedeltà. Oggi purtroppo domina il culto del denaro che spinge i giovani per strade sbagliate. Mi piace riportare un articolo di cronaca che lascia perplessi e quindi può essere anche istruttivo. Dalla scuola al racket. Nove ragazzi, figlie di famiglie benestanti e stimate, con ottimi voti a scuola, sono finiti in carcere. Alla domanda del direttore perché erano arrivati a una simile situazione rispondono per soldi. Andare in discoteca, avere vestiti firmati, far vedere alle ragazze le tasche piene di soldi. Si chiede il pizzo per essere come gli altri. Il cattivo esempio diventa scuola. Questi giovani, famiglie per bene, si danno alla delinquenza, estorcendo il pizzo e creando dissolutezza e scompiglio nelle famiglie. Ora noi ci domandiamo, prima di ogni cosa possiamo incitare l'Evangelista Giovanni che ci dice non amate il mondo e le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui. L'episodio è narrato come si può spiegare quali possono essere state le cause. Perché i giovani battono la strada della malavita, una strada sbagliata? Cosa possono fare le organizzazioni ecclesiastiche, anche laiche, e le famiglie cristiane per portare agine a questa situazione preoccupante della vita sconsiderata, della gioventù moderna? Nella Bibbia, e in modo particolare il Nuovo Testamento, ci presenta la realtà umana con le sue debolezze e cattiverie, ma ci invita ad un cambiamento di rutta. Naturalmente, ascoltare le parole del Vangelo, convertitevi e credete al Vangelo. E' sempre Cristo che va in cerca della pacorella smarrita, ma è l'uomo che deve andare verso la salvezza. Per forza Dio non ci salva. Dio ci propone, addirittura scende a delle condizioni svalorditive, ha mandato il suo figlio sulla terra per la nostra salvezza. Ma siamo noi che dobbiamo accettare questo perdone di Dio e questa infinita misericordia di Dio. Padre Pio a tutti diceva, vieni, seguimi. E' necessario però, alla chiamata, non solo di Gesù, ma anche di Padre Pio, corrispondere ad un impegno di vita, e cioè, primo impegno, preghiera e penitenza, testimonianza di vita, caricarsi dei pesi degli altri. Tre piste di riflessione che possono portarci ad una conclusione serena, gioiosa di cambiamento di vita nella spiritualità di Padre Pio. Grazie a tutti.